Concussione, tentata concussione, abuso d'ufficio in concorso e atti persecutori, tutti aggravati dall'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, induzione in debita a dare o promettere utilità, raccolta, trasporto, abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e violenza sessuale aggravata dall'aver commesso il fatto contro un incaricato di pubblico servizio e dall'aver abusato di autorità e relazioni d'ufficio. Sono le accuse alla base dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita a martedì dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana nei confronti del sindaco e dell'assessore ai servizi ambientali, lavori pubblici e polizia urbana agli arresti domiciliari e dell'assessore ai servizi sociali, politiche giovanili e pari opportunità e di un ingegnere del comune di Erchie, sottoposti al divieto di dimora. Stando alle indagini, i reati sarebbero stati commessi tra ottobre 2020 e maggio 2022. Si attende ora l'interrogatorio di garanzia degli indagati e quindi il confronto con la difesa degli stessi. Nel frattempo, la sospensione dei soggetti coinvolti dalla carica è una misura necessaria per garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa.